che si può fare, la parte positiva, chi siamo noi, chi vogliamo essere, visto che siamo arrivati a questo livello di neutralizzazione politica, diciamo così, per cui non esistiamo più politicamente per niente, nemmeno quel po' che siamo esistiti, che cosa si può fare? E' tutto questo lavoro di lunga lena per provare a esistere, a tornare a esistere da un punto di vista culturale e politico, come una società organizzata, e questo è un grande, diciamo è un lavorio, è anche quello della fionda, di tante altre realtà che ci sono, c'è un lavorio apparentemente metapolitico o pre-politico, di tipo culturale, ma che poi ha delle conseguenze possibili, un precipitato, una alla lunga, è proprio l'idea della talpa e scavano, importante, comunque è l'unica cosa che si può fare, diciamo, per l'altro è inutile illuderci che è di tirar fuori l'ennesimo partitino inventato o soggetto, ma quale soggetto politico? Perché ci sia un soggetto politico ci vuole un habitat, ci vuole un contesto, ci vogliono anche delle, appunto, delle radici che devono maturare in qualche modo, devono anche strutturarsi. Allora, però alcune, in politica estera, io sono d'accordo, bisogna, visto che anche per le ragioni geopolitiche, materiali, diciamo così, che sono materiali e culturali, perché poi appunto il non fare la guerra è anche legato a un problema culturale, cioè, forse è un bene, non lo so se è un bene o male, ma comunque è così, non siamo, non sono tempi e l'Italia poi è sempre stata refrattaria, tranne quella parentesi, a essere così soggetto, sovrano politico, militare, cioè la sovranità, come dicono i tedeschi, gegenhausen, quella verso l'esterno, dello Stato a potenza. A parte quel ventennio, c'è qualche momento, si è un po' il postino al sole, già preparato prima, qualche, un po' di avventura coloniana è iniziata anche prima del fascismo, ma insomma non tanto. Allora è l'altra strada, c'è un discorso di Bettino Craxi in cui, cito, insomma io quando ero un ragazzo, una volta mi ricordo di aver litigato con mio padre pesantemente, lui era allora più craxi, era craxiano, io ovviamente ero comunista berlingueriano, e mi ricordo che era impressa qui questa lite, che lui l'ha fatta apposta provocandomi, quasi fisica, e mi sono sollevato, e lui mi ha fermato, ha detto, ma scusa, ma che fai? Cioè, discutiamo. Era per me un nemico, io devo dire la verità che da anni oramai quando riascolto dei discorsi, non credo sia la nostalgia legata all'età, rimango colpito. C'è una conferenza stampa di Bettino Craxi, tornato da New York, in cui dice delle cose, prim'anno di governo mi pare, alla fine del primo anno, e dice delle cose notevolissime, e a dire la verità. Cioè dice, l'Italia è un grande paese, ma non è un paese che ha una forza militare, non è una potenza militare, non vuole essere, non può essere, non vuole essere, però è un paese importante. E quindi noi, se possiamo, diamo una mano, perché la domanda era, ah, i pichinesi hanno detto che la diplomazia italiana è la migliore del mondo, era uscito questa cosa allora, e lui dice, ma complimenti a Andreotti, al nostro ministro. Comunque io mi sento di dire questo. Un'Italia qualcosa di importante può farlo. Cioè può dare una mano per comporre conflitti, per risolvere dei problemi, e fa gli esempi però. Ad esempio, se qualche amico cileno ci chiama perché ha bisogno di aiuto per affrontare quella tragica situazione che sappiamo esserci lì oramai da anni, perché già erano anni, noi dei limiti, per quello che possiamo, diamo una mano. Se gli amici arabi ci chiamano, o i palestinesi, perché credono nella capacità dell'Italia di mediare, di ragionare, di essere credibili più o meno da una parte e dall'altra, ci chiedono un impegno per affrontare un problema che è un'enorme questione inaccettabile, e cioè l'oppressione del popolo palestinese, noi lo facciamo, interveniamo, operiamo. Cioè fa tutti esempi oggi indicibili. Oggi indicibili. Nessuno, per non parlare del famoso discorso su Mazzini e Garibaldi, no? In Parlamento, in cui difende, non che difende il terrorismo, ma dice guardate la storia è una cosa complessa. Eh? E se un popolo viene oppresso non è che possiamo far finta, rimuovere il fatto e poi quando succede qualcosa di mostruoso stracciarci le vesti, perché siamo o ipocriti o cinici. La verità è che un popolo che viene negato nella sua esistenza politica ha il diritto di lottare per esistere. Poi, come diceva Carazzi, glielo dico, non utilizzate metodi autolesionisti, però la vostra battaglia legittima è giusta. E allora questo è un orizzonte, cioè bisogna recuperare un orizzonte in cui si parla della realtà, in cui si ha il coraggio di dire le cose, in cui non c'è un raccontino di mediato. Questo è il punto. Su questa base si può fare, l'Italia può fare quello per cui è adattissima, cioè promuovere, non retoricamente, ma con una capacità, una sapienza politico-diplomatica, cooperazione, multilateralismo, che tra l'altro non significa affatto non coltivare il proprio interesse nazionale, anzi credo che nel caso dell'Italia questa sia proprio la via per praticare il proprio interesse nazionale, anche. Per cui bisogna recuperare, francamente, una via che la politica estera italiana della Repubblica vera, poi abbiamo avuto la posta Repubblica, e ha praticato ampiamente, perché questa è la verità. Per 30 anni, diciamo 40 anni, arrivando fino alla fine anche all'esternazione, l'Italia ha avuto una politica estera. A volte si diceva un po' come dire ambivalente, che giocava su più terreni, ma preferisco giocare su più terreni, ma esserci ed esserci con una relativa autonomia e sulla base di un'idea di sé, e poi soprattutto sulla base di una realtà. Siamo nel Mediterraneo, dobbiamo operare all'interno di questo. E mi pare che qualche successino era anche stato ottenuto, forse a un certo punto pure troppo, mi viene il sospetto. Qui nel Mediterraneo, nella nostra dimensione, è chiaro, è importante. Poi c'è il discorso di verità sull'UE. Probabilmente, appunto, è vero, sarà la Germania un giorno a decidere eventualmente che ha già lucrato tutto il lucrabile e che forse gli aspetti negativi prevalgono. Oppure ci sarà un evento, perché poi c'è sempre ragguato un evento, è escludibile. Finanziario, oppure finanziario legato ad altri elementi di altro tipo, bellici, bellici, insomma politici, vediamo, vediamo, bisogna prepararsi, ecco, bisogna essere pronti, svegli, perché non è una cosa stabile, non è una cosa che funziona. Noi siamo in una aporia nell'euro, nell'eurozona, in una sorta di guado, ma francamente tutte le persone intelligenti lo riconoscono, pure quelle molto interne all'establish, da porte chiuse, nessuno, quasi nessuno è così cieco e invasato. Oppure qualcuno è molto servì, è molto servente, ecco, è molto funzionale, diciamo, ma io non considero quelli che parlano a pagamento, oppure per autoasservimento. Considero quelli che parlano, perché pensano le cose, autonomamente. Quelli, e questo è pure un punto interessante. Allora, noi abbiamo una sovranità popolare dimezzata ora perché metà non vota, cioè c'è una fuga dalla politica radicale, una difezione democratica. I delusi, no? Perché noi abbiamo avuto il percorso, prima appunto dei francesi, nella scorsa legislatura sono stati votati due partiti, con tutti i loro enormi limiti, che insieme costituivano la maggioranza del Parlamento, cioè senza l'uno o l'altro non si poteva fare niente. Questi due partiti, i movimenti, chiamatemi come volete, erano partiti anti, almeno a parole, diciamo. Comunque, si proponevano ad ointo perché erano anti, critici, fortemente grichi. Bene, quella legislatura, all'inizio si è fatto un governo che metteva insieme i due vincitori, con tutti gli enormi limiti e problemi, però per me, per esempio, dal punto di vista generale, è l'unico governo che riconosco come legittimo degli ultimi vent'anni, forse 25, perché esprimeva una volontà popolare, mettendo insieme forze certe diverse, ma che comunque prendeva atto del risultato. Alla volta precedente è stato praticato un disegno politico preciso, che ha implicato persino che non venisse letto un galantuomo come Stefano Rodotà, che non si cogliesse, poi sempre a posteriori ti dicono, ah, avevi ragione, che non si cogliesse l'opportunità di sparigliare un po', no? Perché se un partito, un movimento, non si è da prendere il 25% di punto in bianco, ma insomma, e quelli che prima avevano più della metà, non ci hanno più gnevi, ci hanno stato dimezzati, a naso è successo qualcosa, forse è meglio prendere, invece no, dall'alto si è detto la logica del bunker, chiudiamoci in un bunker, beh, bello, bel risultato il bunker ha prodotto, cioè ha prodotto appunto il fatto che le forze antisistema hanno vinto, oddio, orrore, figuriamoci, che dramma, quel governo che non ha fatto quasi niente, però qualcosina poco, ma il solo fatto che esistesse, ha bandato ai matti l'Europa e anche l'Italia, diciamo, i poteri, che vuol dire che qualcosina rappresentava, era, e ve lo dico io, rappresentava un minimum di democraticità, e poi ha anche, ma sono stati cauti, eh, comunque qualcosina hanno anche provato a fare, non era comunque, avevano mille problemi, erano in rotta di collisione fra di loro, ma non era questo disastro comunque, e comunque qualcosina, ribadisco, è stato anche avviato, comunque in un anno è stato fatto fuori, e quella legislatura si è chiusa con una presa in giro degli italiani, con la più grande barzelletta politica italiana, cioè col governo Draghi, perché una legislatura che inizia col trionfo delle forze anti e che si chiude col governo Draghi è una barzelletta, o no? Innanzitutto chi l'ha sostenuto? Si è trovato a dover, a vivere l'imbarazzo della barzelletta, e non c'erano le masse fuori a sostegno dell'unto della tecnica, non c'erano, non c'erano, hanno provato in tutti i modi a sostenere, a convincere gli italiani che c'erano, non c'erano, era lampante, bastava prendere l'autobus ad andare a un bar per capire che proprio il governo Draghi non lo voleva proprio, infatti mi pare che abbia vinto qualcun altro, che ha vinto solo perché era all'opposizione, è chiaro se uno sta all'opposizione può dire ma io ero all'opposizione, con cosa ti qualifica? Che ero all'opposizione di Draghi, ah ecco, però faccio la c'è la c'è da Draghi, questo è un problema politico. Poi qualche amico mi dice no, ma sotto sotto c'è un disegno strategico, io ci credo poco, sotto sotto c'è una idea tattica, questa attuale è una tattica funzionale, ha una grande strategia, io ve l'augulo, ma non ci credo. Secondo me la strategia della signora Meloni è quella di durare il più possibile, avendo visto che gli altri hanno durato meno e che erano spazzati, hanno detto io devo fare in modo di durare, poi che questo serva a realizzare qualcosa o semplicemente a durare, quindi sia fine a se stesso, diciamo così, androttianamente, questo non saprei, io tendo per la seconda ipotesi. E quindi non basta, non basta. Però quella sororità popolare di mezzata vuol dire che c'è mezzo popolo italiano che ha defezionato, bisogna andare ad acchiappare, perché è una crisi di legittimazione enorme, alla fine si vota più nessuno, non è proprio come non sarà mago, vuol dire che qualcosa è successo, si può andare avanti, possono tentare, raccontarselo, ora lo stanno facendo, ma c'è poco da essere allegri, chi se crede di aver vinto le elezioni di recente o di essere andato meno male, non ha capito qual è la realtà, e cioè che non c'è dietro nessuno, semplicemente la gente non vota più, anzi non li vuole neppure vedere, non vuole sentire parlare di politica. Mi chiedo, ma questa è potenziale energia, anche perché un giorno potrebbe arrivare qualcuno, magari manco tanto augurabile, cioè strano, che accende un fiammifero e vi si infiamma questo grande pagliaio che ora è inerte, o no? potrebbe accadere, uno dei possibili eventi. E a volte ci si accende velocemente e non è che a quel punto si sa bene dove si vanno a pagare precisamente. Siccome io credo, forse, che ci sia un pezzo di classe dirigente del Paese, non tutto, un pezzo, delle sensibilità, delle persone che ragionano, anche pezzi di economia reale credo, di industria, ma anche di banche, che sono più o meno consapevoli che così non va, cioè che le questioni vere sono quelle di cui abbiamo parlato oggi, non il raccontino ufficiale o mediatico, e che forse vorrebbero anche fare qualcosa per contrastare l'inerzia. Certo, da sole non fanno nulla, cioè dicono, ma qui finché non succede niente stiamo zitti. Però mi chiedo, un'eventuale iniziativa, prima culturale, poi politica, che provi a sollecitare, a puntare, a appoggiarsi su questo, a metterle insieme, perché è chiaro che un qualche cambiamento si realizza, sì, con un consenso popolare, ma anche portandosi dietro un pezzo di establish, mentre magari è più consapevole e forse, forse sono illuso, perché forse va solo spazzato via, è chiaro che un pezzo va spazzato via, però sai, c'è sempre bisogno di avere poi qualcun altro su cui contare, anche le rivoluzioni si fanno coinvolgendo un pezzo di Stato, diciamo così, se c'è ancora un pezzo di Stato coinvolgibile. Ecco, in questo senso lo spero. Certo il presupposto è che non si sentano più discorsi sull'Europa sovrana. Cioè l'Europa sovrana è imbarazzante, perché sovrano può essere uno Stato. L'Europa non è uno Stato, ergo nessuna Europa sovrana. E mi pare che i cittadini non siano andati a celebrare la sovranità europea alle ultime elezioni europee, in Italia in modo particolare. Usiamo i concetti correttamente. Cos'è quello? Quella formula, Europa sovrana, è un uso sbagliato di una retorica emotiva a cui non corrisponde niente di reale. Non è un puntare sulle passioni, che può essere una cosa importante in politica. No, in realtà è cilicamente affossare le passioni autentiche e la possibilità che si rigenerino delle passioni, che la gente creda a qualcosa e buttare là un osso che è un inganno. Quindi, in questo senso il lavoro culturale, innanzitutto ripartiamo dal discorso di verità. Non c'è alcuna Europa sovrana. Dovremmo essere noi.